I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro e messo dal Tribunale di Napoli sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione di cinque appartamenti situati in varcaturo per un valore complessivo stimato in un milione di euro circa. Le attività condotte dal nucleo investigativo dall'ottobre 2018 al maggio 2021 hanno consentito di accertare la totale e diretta disponibilità degli immobili da parte di Valle Fuoco Biaggio, elemento di spicco del clan Mallardo, rientrante nella sfera di influenza del cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano, detenuto dal 2018 in quanto responsabile di assorsione aggravata per contro del sodalizio nei confronti di un'impresa idile ivi operante, rilevare un'evidente sproporzione tra la tenore di vita condotta dal citato Valle Fuoco e le fonti di reddito ufficiali.